Siamo con il dottor Raffaele Gentile, vicepresidente della provincia di Taranto. E allora, vicepresidente, lei ha ascoltato, ha visto il video in cui l'onorevole Alessandra Ermellino, deputata di questa Repubblica Tarantina di Crispiano, ha avuto l'ardire di sottolineare il fatto che non sono necessari i voli civili dall'aeroporto Arlotta di Grottaglie, se ne può fare a meno, anzi sarebbe uno spreco, visto che ci sono già Bari e Brindisi e poi il turismo si può fare anche senza aeroporto. Affermazioni che sono raccapriccianti perché da un lato voi come istituzione e le associazioni stanno facendo di tutto per rendere possibili questi voli civili e poi abbiamo un rappresentante Tarantino che di fatto ci spezza le gambe. Credo che davvero quelle dichiarazioni siano abbastanza forvianti, oltre che credo privo di ogni logica e contraria soprattutto agli sforzi istituzionali che in questo territorio si stanno compiendo. La provincia ha istituito il tavolo tecnico per l'Arlotta di Grottaglie che coinvolge esperti del settore, i comitati da definire di lotta che da anni sensibilizzano alla causa dell'apertura ai voli civili dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Credo soprattutto che le dichiarazioni della parlamentare in questione siano assolutamente fuori da ogni logica. Non credo che nel nostro territorio che comunque rimane bianco dal punto di vista dei flussi turistici si possa parlare di uno sviluppo consistente di questo settore se non vi sarà un aeroporto al servizio di questa causa e soprattutto guardando gli indici di utilizzo dei posti letto presenti in tutto l'arco ionico, ricomprendendo anche la Valle d'Itria, quindi non solo la provincia di Taranto ma l'intero arco della Valle d'Itria e l'intero arco metapontino. Gentile, siamo rimasti stupefatti sentendo dire che un'apertura dei voli civili all'Arlotta determinerebbe un danno economico a Brindisi e a Bari. Cioè l'Ermellino anziché preoccuparsi di far crescere l'economia tarantina si preoccupa che quella barese e quella brindisina non abbiano contraccolpi negativi. Tutti quelli che non vogliono l'apertura dell'Arlotta di Grottaglie utilizzano queste motivazioni come scudo. In realtà così non è. Primo perché i flussi o meglio i passeggeri su aeroporti di Puglia nelle due sedi di Bari e Brindisi dimostrano un trend in crescendo che va ad aumentare anno per anno. I dati sono assolutamente confortanti. Secondo perché l'aeroporto Arlotta di Grottaglie assorbirebbe non solo gli utenti dell'arco ionico quindi della provincia di Taranto ma un'utenza molto più vasta che fa riferimento sicuramente alla Basilicata perché per loro è facilmente raggiungibile attraverso l'arteria stradale della 106 ma anche la Calabria superiore. Quindi parliamo di un'utenza che oggi sicuramente non va all'aeroporto di Brindisi e in misura molto minore si rega presso l'aeroporto di Bari per volare. Parliamo di un aeroporto il nostro che ha una delle piste più lunghe d'Europa. Deputata ai voli intercontinentali peraltro. Sì ma soprattutto io vorrei dire che questa cosa dei voli suborbitali che tra l'altro al momento è una sperimentazione la vicenda dello spazio porto poco inciderà sullo sviluppo del nostro territorio allo sviluppo del nostro territorio che invece un aeroporto può dare. Spazio porto è una roba per i ricchi è una roba per chi se lo potrà permettere un biglietto costerà 70 mila euro siamo in una fase che è ancora sperimentale è vero che stanno lavorando a questi voli che suborbitali quindi oltre l'orbita potranno portare ad esempio dalla Puglia agli Stati Uniti nel giro di un'ora un'ora e mezza ma è vero anche che se lo potranno permettere davvero in pochi. Parliamo di fantasia evidentemente parliamo davvero di spazio quasi ad immaginare i tempi in cui si giravano le fiction di fantasia guardando allo spazio ma non stiamo parlando di certo di una cosa che può migliorare gli asset del nostro territorio. Invece stando al ragionamento dell'onorevole Ermellino sembra quasi anziché di andare nel 2000 nel 3000 di tornare nel medioevo. Taranto ha bisogno di rappresentanti che davvero la difendano che pensino ad un progetto di sviluppo serio per il nostro territorio ma che soprattutto vogliono mettere in prima linea le ragioni di questo territorio. Io non credo che le dichiarazioni della parlamentare in questione raccolgano in maniera univoca le posizioni del movimento che lei rappresenta e mi auguro che non sia così ma soprattutto mi auguro che tutti noi rappresentanti istituzionali gli onici riusciamo su queste vicende a fare quadrato. La ZES nasceva per Taranto in realtà è diventata un'altra cosa di cui se ne stanno per avvantaggiare altri territori e Taranto sembra essere diventato l'ultimo dei problemi. Vi sono vicende che tengono caldo il panorama politico nazionale e sulle quali purtroppo ancora non si riesce a decidere. Vi sono una serie di emergenti sul nostro territorio ma soprattutto ritardi infrastrutturali in particolar modo nell'area costiera che sta almeno 20 anni indietro rispetto ad altri posti che vanno assolutamente affrontate. Dobbiamo sederci a ragionare di questo tenendo a mente che ritornando alla vicenda aeroportuale non solo i tre aeroporti possono coesistere con un'offerta di rotte diverse ma soprattutto si possono aprire nuovi mercati e che difficilmente noi saremo attrattivi dal punto di vista turistico. Io questo ve lo dico per certo perché nello scorso dicembre sono stato artefice ma anche sostenitore e ho partecipato a una missione di diversi operatori turistici nell'area di Mosca. Anche sui tavoli dei tour operator russi si diceva appunto che forse un aeroporto in loco aiuta la mobilità e i trasferimenti. Quindi davvero quando parliamo di queste vicende cerchiamo di affrontarle col piglio giusto ma guardando uno sviluppo più organico del nostro territorio che merita di essere visitato, valorizzato e non sempre venduto all'esterno per i problemi che ha.